TIPPINO, IL POSTINO Consegna fantastica per il teatro prova, chissà che cosa avranno ordinato oggi Ma questo? Che cos'è? Polvere di fata? Polvere di fata! Ma chi mai potrà servire della polvere di fata? A me? Manca solo quella affinché lo spettacolo prenda il volo Vi aspettiamo domenica per qualcosa di nuovo e di speciale Cosa c'è di nuovo e di speciale questa domenica? Peter Pan, il nuovo spettacolo di teatro prova Domenica 27 novembre, ore 15 e ore 17 Qualcosa di nuovo vi aspetta!